Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù, disceso con i dodici, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di Suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli occhi verso i Suoi discepoli, diceva Beati voi, poveri, perché vostro è il Regno di Dio. Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'Uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo, infatti, agivano i loro padri con i profeti. Parola del Signore Iniziamo l'ascolto del discorso della pianura. In Matteo, nel Vangelo parallelo a questo, si chiama il discorso della montagna, mentre Luca lo pone in un luogo pianeggiante. E comincia, anche lui, con le beatitudini. Ma a differenza di Matteo, non sono otto, ma sono solo quattro, e ci sono anche quattro guai, che sono simmetrici ai quattro beati. La beatitudine era un modo normale di parlare del tempo di Gesù, era un modo sapienziale, si dice così, cioè un modo di riflettere sulla vita, sulle cose, sulla giusta strada. Beati voi poveri. Matteo diceva, beati voi poveri in spirito. Per Luca è beati voi poveri, punto. Guai a voi ricchi. Cioè, che cos'è la povertà per il Vangelo di Luca? Non è la miseria, non è l'essere straccioni. È la povertà del cuore. È la povertà che si vive anche in una povertà effettiva, in un'essenzialità di vita. Cioè, è quell'atteggiamento di chi non presume di sé, perché è ricco, perché è importante, perché è intelligente, perché è istruito, perché è giovane, ma sa che ha bisogno di Dio e si affida. Ecco il povero. E non presume di sé, diremmo non si dà le arie, non si mette sul piedistallo, non guarda gli altri dall'alto in basso, perché sa che ha bisogno di Dio. Ha bisogno di qualcuno che lo guidi nella vita. Ecco, dice, Gesù, beati voi, che avete questo cuore, il cuore dei poveri, che avete questo atteggiamento, perché il regno di Dio è vostro, è già qui. E così anche le altre, voi che avete fame, voi che ora piangete, voi quando gli uomini vi odieranno, quando vi insulteranno a causa del figlio dell'uomo, non in generale, perché ci insultano, ma per la testimonianza cristiana. Il vero testimone dà sempre fastidio. Il vero testimone, anche se non fa discorsi, se non parla, con la sua vita mette in discussione la disonestà, la cattiveria degli altri, che poi lo prenderanno male, lo contrasteranno. Eppure, dice Gesù, questa è la strada della vera beatitudine, della vera felicità. Mentre le beatitudine non sono delle regole, non sono delle indicazioni morali, sono degli orizzonti, sono delle strade. È proprio l'idea del cammino. Beati voi che camminate su questa strada, voi che avete fame, voi che voi piangete, cioè voi che vivete dentro questa vita, fatta così, fatta anche di fatica, ma vissuta con Dio. Ecco, è la strada come il viandante nel deserto è beato se è sulla strada giusta, perché se sbagli strada nel deserto poi non arrivi all'acqua e muori. Ecco, questa è la strada verso la beatitudine, verso la felicità. Gesù ci indica le strade, ci mette in guardia, guai in voi, c'è a voi ricchi, guai a voi che siete, guai che ora ridete. Ci mette in guardia, perché? Perché non sbagliamo la vita, perché possiamo essere davvero felici, che alla fine è proprio quello che Dio vuole, ma la felicità sta nel dono, nell'affidarsi, nel rinunciare a tante cose per qualcosa di più, per una felicità più grande. Seguiamo Gesù sulla strada delle beatitudini.